Il riscaldamento globale potrebbe mettere in pericolo non solo la produzione di cereali, ma anche la sua salubrità. A dirlo è uno studio condotto da Paola Battilani, docente di patologia vegetale alla Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica di Piacenza e pubblicato sulla rivista Nature. Nel mais e nel frumento abbiamo diversi funghi che possono svilupparsi, alcuni di questi sono in grado di produrre sostanze tossiche per il consumatore e quindi il nostro obiettivo era quello di capire se in questo cambiamento climatico la produzione di queste sostanze potrà aumentare. Il risultato che abbiamo ottenuto è abbastanza chiaro, nel caso del mais noi avremo un aumento del problema. La sostanza di cui parliamo è la flatossina, è una sostanza che appunto viene prodotta in natura dai funghi nel mais. Il mais viene utilizzato per l'alimentazione degli animali, in particolare degli animali da latte. Quali rischi ci possono essere per i consumatori? Partiamo da un discorso tranquillizzante. A livello europeo ci sono delle leggi ben precise che impongono un limite massimo di presenza di queste aflatossine nel latte. I controlli sono molto frequenti. Il consumatore europeo può stare tranquillo. Il limite massimo ammesso nel latte è un valore molto molto basso che naturalmente garantisce dal punto di vista della sicurezza il consumatore. La vostra ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature? Esatto, in particolare è stata pubblicata su Scientific Report che è una delle riviste del gruppo di Nature. Quindi questo per noi è di grande soddisfazione. La ricerca si sta muovendo per fornire strumenti utili alla prevenzione del problema, come gli agenti di biocontrollo. Una volta capite le cause e gli effetti che producono, le soluzioni immediate quali sono? Nel caso particolare del mais e delle aflatossine, sempre come Università Cattolica, abbiamo selezionato dei ceppi di questo fungo produttore delle aflatossine che non producono la tossina. Il modo migliore per combattere questo fungo era quello di utilizzare un suo simile non tossigeno. Attraverso tanti passaggi abbiamo la garanzia che questo fungo non sarà più in grado di produrre la tossina, non sarà mai più perché ha tutte delle mutazioni a livello genetico che ne impediscono la produzione. In più, il fungo è molto ben adattato ai nostri ambienti, è un fungo autoctono. Abbiamo un ceppo depositato in un'amicoteca ufficiale e soprattutto abbiamo un brevetto per l'impiego di questo fungo come agente di biocontrollo. Le prove di campo hanno dato dei risultati molto incoraggianti perché riusciamo ad ottenere un abbattimento di circa l'80% delle contaminazioni. Questo significa che normalmente siamo sempre al di sotto dei limiti di legge. La soluzione trovata dai ricercatori della Cattolica ha un doppio vantaggio. Oltre a combattere la produzione della flotossine è anche un prodotto naturale e biologico.